Musica Cari telespettatori di Fano TV, buonasera e benvenuti al secondo approfondimento dedicato al piano di emergenza del Comune di Fano. Vado a presentarvi gli ospiti di questa sera. Un benvenuto e buonasera all'assessore Cristian Fanese, assessore lavori pubblici e protezione civile del Comune di Fano. Abbiamo al suo fianco Fabrizio Battistelli, buonasera, funzionario dei lavori pubblici. Dicevamo nell'approfondimento precedente l'importanza di divulgare questo piano, di informare i cittadini, assessore, proprio perché ognuno deve sapere che cosa deve fare in caso di emergenza, di necessità. E' un cittadino informato, sicuramente un cittadino che potrà salvare la vita, non soltanto se stessa, la propria vita, quella dei familiari e aiutare comunque anche gli altri cittadini. Sì, come Comune di Fano abbiamo approvato un nuovo piano di protezione civile, che è un insieme di procedure, di regole, strumenti, insomma, tecnici, che servono per, come dire, preparare l'amministrazione comunale in caso di assistenza alla popolazione. Ma è un piano che serve anche per chi viene da fuori a fare assistenza alla popolazione in caso di necessità. Ma in tutto questo, ovviamente, gli strumenti tecnici sono molto importanti, sono affinate, abbiamo dato degli incarichi specifici per rivederli e farli completamente nuovo, ma però rimane sempre un concetto base, che è quello che lei diceva la prima, cioè che i cittadini sono le vere sentinelle della propria sicurezza, della propria sicurezza e dell'incolumità propria delle famiglie, di chi non può fare a meno del nostro intervento, ma anche della proprietà privata. Perché ovviamente questo piano prende in esame tanti rischi, alcuni colpiscono la sicurezza delle persone, la salute delle persone, con altri invece la proprietà privata, per cui esattamente il piano mette insieme queste procedure, queste regole, che il cittadino deve sapere. Come fa a sapere? Ovviamente attraverso la consultazione del nostro sito web, la pagina del Comune di Fano, c'è tutto il piano, si può scaricare, dotato di mappe, eccetera, ma per conoscerlo meglio noi cerchiamo come amministrazione comunale di divulgarlo il più possibile, sfruttando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Tra questi sicuramente Fano TV perché ci permette di arrivare in tantissime famiglie e ci permette di spiegare cos'è il piano e cosa fare in caso di rischio a tutti i cittadini che vorranno insomma informarsi. Esatto, dunque Battistelli troviamo, come diceva l'assessore, tutte le varie possibilità, tutti i vari rischi che possono succedere ovviamente anche nel Comune di Fano, un piano dettagliato, nei minimi particolari, studiato e ovviamente messo a disposizione dei cittadini. Sì, il piano di protezione civile, come diceva l'assessore in questo momento, è lo strumento che il sistema di protezione civile individua come strumento per la valutazione dei rischi del territorio, la valutazione delle azioni preventive e la valutazione delle azioni di soccorso. Per cui è stato fatto analizzando i vari rischi a cui è soggetto il nostro territorio. Sulla base di questi qua sono stati elaborati gli scenari, sono gli scenari veri e propri di rischio, per cui ci saranno degli scenari idrogeologici per i rischi derivanti dai mal tempi, dai fenomeni atmosferici o di esondazione, fino ad arrivare al scenario più critico per il nostro territorio, perché comunque siamo in una zona altamente sismica, siamo a un passo dalla sismicità più alta. E per questi qui ci sono dei modelli di intervento operativi. Diciamo che come strumento di prevenzione è molto importante, perché analizzando tutti i vari rischi anche il cittadino stesso può valutare qual è il rischio a cui è soggetto nel suo territorio dove abita o dove lavora piuttosto e per cui magari col tempo crearsi un attimino un modo di vivere sicuro. Questo è importante. Per quello che riguarda i modelli operativi, che poi dopo vengono elaborati tutti dentro il COC, in base alle esigenze reali, li riportano delle fasi operative, sia per gli eventi con precursori, per cui sono tutti quegli eventi derivanti dai fenomeni climatici, dove c'è un sistema a livello di rete nazionale e regionale che è in grado di allertarci, come per gli eventi senza precursori che per il nostro territorio il rischio è quello del terremoto, quello non dà dei precursori. Esatto. E noi oggi ci concentreremo proprio sul sisma. Che cosa si può fare, ad esempio nelle proprie abitazioni, per cercare di evitare più rischi possibili? Esatto. Adesso sommariamente diciamo qualcosa. Comunque anche queste cose qua nel piano di protezione civile c'è, per ogni scenario, una parte che riguarda anche il cittadino, che cosa può fare, cosa può mettere in atto per rimitigare i danni derivanti da quel rischio lì, perché il rischio comunque non lo possiamo eliminare. Ad esempio, in casa fare un'analisi della sua abitazione, valutare che tipo di abitazione sta abitando, sta vivendo, per cui se c'è bisogno di magari modificarla strutturalmente o no, oppure individuare nella propria abitazione un luogo sicuro, dove nel momento dell'evento non bisogna immediatamente scappare e cercare una via d'uscita senza valutare che cosa sta succedendo, ma trovare un angolo di sopravvivenza. Può essere un architrave, come può essere un tavolo robusto dove infilarsi. L'altra cosa da mettere in atto, sembra di parlare dal manuale delle giornate o notte, però tenere in casa una torcia elettrica funzionante, una radio a batterie, perché un post-evento, una delle più grosse cose, è avere informazioni, avere notizie, una radio a batterie, il vecchio transistor, i medicinali di uso corrente, se qualcuno ha necessità di avere dei medici salvavita, di poterli avere a portata di mano. la cassetta del pronto soccorso, delle coperte impermeabili. Un kit che dovremmo sempre avere a disposizione. Un kit a disposizione, possibilmente vicino alla via di Esodo, che se lo prende se lo porta fuori. L'altra cosa che invece è questo analizzare nel territorio dove abita o dove lavora, dove sono ubicate le aree di attesa, che nel post-evento, una volta che uno è riuscito a capire che è in columna, che è a posto, che può muoversi, si deve recare nell'area di attesa. Da lì poi parte tutta la macchina del soccorso delle proprie. Ecco, partiamo allora dalla funzione del Comune. Sì, certamente la funzione del Comune è quella di assistere la popolazione in questi casi di eventi. Parlando dell'evento principe, quello senza precursori, quello del terremoto, quello che forse interessa a tutti, perché è giusto ricordarlo, è giusto esserne consapevoli tutti. Fanno una città in zona 2, quindi è a rischio terremoto. E ovviamente l'amministrazione si prepara, divulgando le informazioni come facciamo questa sera, anche mitigando il rischio, facendo gli interventi strutturali in un patrimonio fragile. però c'è anche quello che si può fare dopo il terremoto e quindi quello di assistere la popolazione in questi casi. Prima cosa vorrei dire questo, in caso di evento sismico, ovviamente non c'è nessuna preparazione, nessuno può stabilire quando e come avverrà, ovviamente bisogna mantenere la calma, bisogna mantenere la calma perché ovviamente lucidi e ragionare, pensare a se stessi, ma anche le persone che non sono autosufficienti, i bambini, a chi insomma non si può muovere senza un aiuto. La prima cosa è trovare durante l'evento sismico un luogo sicuro, come diceva Fabrizio Battistelli, un luogo sicuro sotto il quale, o comunque in prossimità del quale, potersi riparare in maniera tale di non essere colpito da cornicioni, mobili che cascano, quindi evitare assolutamente ballatoi, evitare finestre, porte finestrate, di uscire, sicuramente di uscire, non prendere l'ascensore, cercare di evitare di sostare nelle scale perché ovviamente, diciamo perché ci potrebbero essere delle persone che si comportano diversamente da noi, che si fanno prendere dal panico. Comunque, quando c'è il terremoto, l'importante è stare dentro casa, se si è all'interno della casa, della propria abitazione, del posto di lavoro, e trovare un posto sicuro durante il quale passare questi attimi che possono essere anche terribili. Non correre rischi, non uscire e quindi soprattutto non fermarsi in zone dove potrebbero succedere delle cose, mobili, come ho detto, cornicioni, eccetera. Ugualmente nel posto di lavoro, ovviamente la stessa cosa si fa lì, nelle scuole è la stessa identica cosa e lì ci sono dei programmi specifici messi in campo dagli istituti scolastici che insegnano agli insegnanti ma anche ai bambini a come comportarsi. Poi, subito dopo, iniziare a vedere che cosa sta succedendo, cercare di dare assistenza a chi non può ovviamente permettersi da solo di spostarsi, di muoverci, eccetera, iniziare a chiudere il gas, iniziare a chiudere l'acqua, iniziare a staccare la corrente elettrica, prendere quei mezzi, le poche cose che servono e cercare di raggiungere all'esterno dell'abitazione o del luogo di lavoro dei posti sicuri. Sono le famose zone di attesa, cioè delle zone che noi abbiamo individuato all'interno del comune in cui le persone devono confluire per attendere appunto i soccorsi che saranno messi in campo dall'amministrazione comunale, dai volontari e da tutti coloro i quali fanno parte in maniera attiva del sistema di protezione civile. Quindi, l'unica cosa che si può fare è essere informati delle cose che potrebbero succedere durante il terremoto e dove andare. Le zone di attesa sono importantissime perché lì i cittadini devono aspettare, senza creare confusione, un'assistenza che arriva o dal comune o dai volontari che in alcuni casi, quelli più gravi certamente, possono venire da fuori. Ovviamente, chi viene da fuori ha tutte queste aree di attesa che noi abbiamo graficato e mappato e quindi non lascerà nessuno indietro. Una cosa molto importante è quindi conoscere all'interno del proprio quartiere la propria area di attesa. Cominciamo allora a vedere una mappa che abbiamo preparato, assessore, così riusciamo a far capire bene anche a casa. Ecco, che cosa vediamo? Le parti colorate e quelle non colorate. Qual è la differenza? Esattamente, questa è Fano, ovviamente abbiamo suddiviso in base anche alla popolazione presente in ogni quartiere, appunto la città in queste zone, in questi quartieri e per ogni quartiere abbiamo individuato una o più aree di attesa. Ovviamente c'è una parte bianca che non abbiamo colorato, che non abbiamo codificato, che sono le case tra virgolette di campagna che sono, come dire, di cui la nostra città è certamente piena, per le quali non esistono aree di attesa perché effettivamente già uscendo dalla propria abitazione, evitando di sostare nei cornicioni, nei luoghi lontano dalle piante, dai fili della tensione, dell'alta corrente e sicuramente anche dai pali delle telecomunicazioni che ci potrebbero essere, sono di per sé luoghi sicuri. Per tutti gli altri ovviamente abbiamo individuato delle aree specifiche dove arriverà il volontario di protezione civile a fare assistenza. Ci può fare qualche esempio? Certamente, ovviamente non potendoli elencare tutte perché sono una sessantina mi limiterei a fare alcune situazioni. Ad esempio il quartiere di Gimarra, per il quartiere di Gimarra abbiamo individuato come area di attesa il parcheggio di Viale Romagna, quello lungo la Statale, il Lido invece ne abbiamo individuate due perché una è a destra, una è verso mare, l'altra è verso monte rispetto alla ferrovia, ad esempio verso mare piazzale a Mendola e verso monte il parcheggio della zona Arzilla, quella dove c'era il famoso parcheggio del CIF. Poi la paleotta via Morganti che c'è un'area verde molto ampia, la liscia il parcheggio di Viale Kennedy, il centro storico ovviamente abbiamo individuato quella più grande, quella più capiente che è Piazzale Malattesta presso i giardini Biancheria e Morelli quelli insomma vicino alla Rocca. La Trava il parcheggio campione dello sport praticamente di fronte all'area sportiva, al Poderino Piazza Unità d'Italia, San Cristoforo il parcheggio di Via del Risorgimento, Don Gentili via Don Giovanni Bosco dove c'è un'area verde lungo la via, Sassonia il parcheggio di Via dello Scalo, poi c'è l'ospedaletto che è il parcheggio di fronte al vecchio ospedaletto in Via Mercantini, la stazione ovviamente è di per sé una zona diciamo di attesa, San Lazzaro i parcheggi diciamo vicino alla chiesa, vicino al centro commerciale, fanno due il parcheggio di Via Guarnieri, Piazza del Popolo, l'area verde appunto di Piazza del Popolo e questi sono alcuni esempi. ovviamente noi nei prossimi mesi doteremo tutte queste zone di una segnaletica ad hoc dedicata, indicheremo queste come area di attesa dove appunto le persone potranno giornalmente come dire prendere dimestichezza con questa necessità. Poi ovviamente in caso di terremoto, in caso di evento sismico importante, le zone di attesa si accumulano alla gente e poi verrà distribuita nel caso le case non dovessero essere più agibili in zone di accoglienza e i tecnici ammasseranno tutte le necessità tecniche nelle zone di ammassamento che abbiamo già individuato però a questo punto direi che non sono molto utili da indicare perché il cittadino deve andare a vedere. Comunque è già tutto studiato e anche in questo caso sono pronte ad ospitare eventualmente i cittadini che ne dovessero avere bisogno? Sono studiate, graficate, ovviamente la protezione civile nel caso dovesse succedere un evento di questo tipo anche persone che vengono da fuori possono trovarle individuale con il GPS con le mappe eccetera senza nessuna problema nel caso delle zone di accoglienza potranno essere anche allestite appunto all'occorrenza e quindi ovviamente solo in fase di emergenza quindi non sono pronte nel senso non sono capaci subito magari di accogliere le tende eccetera però ovviamente nel giro di 448 come abbiamo dimostrato anche dall'esercitazione che abbiamo fatto durante questo ultimo agosto la protezione civile con tutti i mezzi la colonna mobile arriva e dota l'area che abbiamo individuato di tutti i servizi tutte le quindi acqua fogne eccetera e di tutti appunto gli alloggiamenti che dovessero essere necessari ecco quindi insomma Battistelli questo centro operativo comunale sarà un po' la regia sì il centro operativo comunale il famoso COC che è la struttura dove si riunisce le funzioni di supporto al sindaco come dicevate già nella precedente puntata il sindaco è l'autorità che governa le situazioni di emergenza durante un evento ecco di supporto ha 8, 9, 10 funzioni nel senso che ogni funzione cura una particolare interesse cioè c'è una funzione tecnico-scientifica che è quella che coordina il tutto come ci può essere una funzione telecomunicazioni che si preoccupa di contattare team telecom e di seguito quindi in base al problema che si verifica o piuttosto mettere in piedi una rete di comunicazioni sì ci sarà la funzione di assistenza alla popolazione che si preoccuperà di individuare le aree di ricovero piuttosto che le palestre che ancora potrebbero essere e ogni funzione avrà un suo preciso compito la viabilità dovrà garantire gli accessi o valutare se fare una strada o un'altra quindi il COC diventa la struttura portante in ambito territoriale che poi logicamente si coordinerà con le strutture superiori che sono poi quella regionale piuttosto che quella provinciale o addirittura potrebbe essere la direzione del comando e controllo che arriva direttamente dal dipartimento nazionale che se l'evento è di notevole importanza quindi oltre le forze dell'ordine oltre a vigili del fuoco eccetera ci sono dei volontari che sono e sanno insomma che cosa devono fare sono pronti sia la parte operativa quindi vigili del fuoco e tutta la parte istituzionale che è la parte dei volontari che sono diciamo è la parte principale che dà assistenza alla popolazione per cui tutto quello che c'è da mettere in piedi per dare assistenza alla popolazione generalmente in questi eventi qua viene gestita dal volontariato c'è una funzione specifica all'interno del COC che coordina il volontariato quello locale se riesce e quello che poi viene inviato dalle strutture dalle sovracomunali quindi dalla regione o dalla nazionale e per testare la capacità di organizzazione è già stata messa in atto una simulazione nel quartiere Vallato sì l'abbiamo fatta nel quartiere Vallato abbiamo riscontrato anche un buon successo di partecipazione e abbiamo simulato quello che potrebbe succedere nel caso di terremoto e quindi la presenza di volontari che vengono da fuori il coordinamento da parte comunque dei tecnici comunali del sindaco e una serie abbiamo in quell'ambito testato alcune necessità ad esempio una delle più importanti ovviamente per il mondo che viviamo è quella delle telecomunicazioni è chiaro che in caso di terremoto la corrente elettrica non è garantita e noi abbiamo simulato che non ci fosse abbiamo messo in piedi tutte le cose che servivano per ottenere un generatore provvisorio che almeno alimentasse il COC il sistema satellitare di comunicazione per comunicare all'esterno ma lontano diciamo a Roma e poi anche una rete radio interna nostra che comunque abbiamo sempre dormiente che serve appunto per coprire tutta la città e poter collegare in qualsiasi momento una vettura oppure un volontario con una radio portatile al COC in maniera tale da poter coordinare appunto questa attività di raccolta delle informazioni principalmente ma anche di assistenza alla popolazione è quello che succede poi realmente nei fatti che avvengono purtroppo che sono avvenuti recentemente purtroppo al sud delle Marche è importante raggiungere tutti i posti comunicare importante dare come dire assistenza alla popolazione ma anche mettere in rete tutti quei volontari quei tecnici eccetera che poi sono capaci di poter dare assistenza quindi questa è stata la sfida più importante così come qui lo sottolineo perché credo che sia una cosa molto importante una cosa nuova che è entrata nel piano di protezione civile che è un piano ovviamente di concezione molto moderna è quella della comunicazione ovvero usare i media in maniera tale che attraverso questo patto tra virgolette tra amministrazione che gestisce le emergenze in questo caso e i mass media possa avere anche una collaborazione proficua ovvero le informazioni vengono date dalle amministrazioni perché è giusto informare e d'altra parte i media si mettono tra virgolette a disposizione dell'amministrazione per evitare confusione per dare la giusta informazione un po' quello che è avvenuto anche se non era quella un'emergenza di protezione civile con la bomba nel senso che attraverso i media abbiamo potuto come dire informare correttamente la popolazione che correttamente ha fatto quello che noi ci aspettavamo potesse fare esatto quella era non tanto una simulazione ma proprio un'esercitazione vera e propria ed è andata anche molto bene direi tutti sono riusciti a svolgere le proprie funzioni senza creare allarmismo senza non era facile perché non eravamo pronti a questo scenario tra virgolette è una cosa inedita ovviamente che individuava comunque colpiva una parte della città è stata un'esperienza che ovviamente a questa amministrazione è stata molto utile appunto per se così si può dire testare le esigenze le necessità della popolazione sul campo perché aver dovuto spostare tantissime persone in così poco tempo è stata una sfida molto importante abbiamo dimostrato anche di saperlo fare e abbiamo riattivato tutte quelle solidarità anche che ci possono essere all'interno di una città per esempio i bagnini ci hanno offerto tra virgolette gli abbiamo chiesto ma loro sono stati molto contenti di collaborare i lettini perché non avevamo più dove mettere la gente a dormire nonostante avessimo le strutture comunque capienti e quindi è stata oltre alle brande che la protezione civile ovviamente ci ha fatto arrivare da Ancona così come la solidarietà tra città perché Pesaro era pronta ad accogliere centinaia di cittadini e fanesi un treno speciale fermo a Marotta per alloggiare nelle cucette le persone quindi questa è stata veramente una prova del fatto che questa città ovviamente il sistema di protezione civile si basa sulla collaborazione dei cittadini ma si basa su una rete di relazioni che sono sovracomunali e soprattutto si basa sulla bravura di chi ha divulgato le informazioni come in questo caso ma anche di chi i volontari ovviamente hanno operato sul campo per fare che tutto andasse per il verso giusto poi come dire pericoli non ci sono stati fortunatamente devo dire che la città di Fano ha dimostrato ancora una volta di saper fare molto bene le cose soprattutto in protezione civile a cui è chiamata Battistelle questa campagna di informazione e o simulazione proseguirà anche nelle prossime settimane? Per almeno la volontà dell'amministrazione è sempre stata quella di poter non fermare il piano alla sua redazione per cui le esercitazioni sono una parte fondamentale del mantenere vivo il sistema tant'è vero che le esercitazioni che parlavamo prima in realtà erano due esercitazioni una è stata fatta nel chiuso del centro operativo comunale al mattino dove tutte le funzioni sono state messe sotto pressione da dei scenari che ha individuato la regione per cui nessuno era a conoscenza di quello che capitava una stupidaggine individuare il fornitore di bombole per poter fornire sui campi il funzionario che doveva fare approvvigionamento ma è arrivato fino ad ordinarle e poi le ha fatte fermare anzi no tre sono arrivate perché il campo ha dovuto funzionare in contemporanea c'è stata quella più scenografica l'esercitazione che era stata messa in piedi dalla struttura nazionale della FICB che mi sembra che Olivia aveva spiegato che loro sono federati con questa associazione che ha una colonna mobile nazionale per cui quello è quello che realmente capita in un evento di questo tipo qua chi porterà il soccorso alla città di Fano non saranno i nostri volontari perché molto probabilmente sono impegnati ma arriveranno da fuori quindi devono trovare sulla carta tutto quello che gli può essere necessario per impiantare un campo e riuscire a dare un tetto sopra la testa e un piatto di pasta calda nel più breve tempo possibile alle persone che sono in esigenza e Fanesi incontrerete anche i vari residenti dei quartieri sì inizieremo un percorso ovviamente che ci porta a divulgare questo piano attraverso il web attraverso la tv ma anche incontrando le persone perché ovviamente in maniera più unifuga ci possa essere questo contatto diretto con le persone che hanno anche da porci delle domande lo faremo e lo faremo con i volontari del CB Club Mattei perché divulgare questo piano oltre che un piacere perché parlare alla gente è sempre un piacere spiegare le cose è un dovere dell'amministrazione e un'amministrazione lungimirante deve cercare di informare la popolazione sui rischi che questa può correre e anche noi continueremo a parlarne durante i prossimi approfondimenti ringrazio l'assessore Cristian Fanesi e il funzionario Battistella grazie per essere stati con noi e a voi tutti un buon proseguimento di serata arrivederci buona serata grazie a tutti